Avanti con la riforma del Senato. O facciamo le riforme o non ha senso che gente come me sia al governo. Non ci sto a fare le riforme a metà, lo ha detto il Premier Matteo Renzi, intervistato a RTL 125. Le parole di Renzi sono arrivate dopo le polemiche con il Presidente del Senato Grasso, che aveva chiesto un ripensamento sull'abolizione del Senato. Il Consiglio dei Ministri intanto ha varato il provvedimento che cambia natura e funzioni al Senato, trasformandolo in Camera non più elettiva. Renzi ha ribadito i suoi paletti per la riforma istituzionale, un Senato in cui senza indennità siedano sindaci e presidenti di Regione, non senatori eletti dunque. I senatori poi non vetteranno più la fiducia nel bilancio. No, non direi molto contestata. In realtà io sento pareri molto favorevoli. Anche questa mattina, come nei giorni scorsi, ho partecipato a degli incontri con i più autorevoli costituzionalisti. Anche con Zagrebessi? L'ha incontrato? No, lui direttamente non l'ha incontrato negli ultimi mesi, ma ha incontrato altrettanti costituzionalisti di livello. In realtà c'è una considerazione favorevole su questa proposta di riforma. Peraltro per quanto riguarda l'eliminazione dell'elezione diretta del Senato erano anche le conclusioni a cui erano pervenuti i saggi nel lavoro che hanno completato nei mesi scorsi, in modo abbastanza unanime e trasversale. Addirittura c'è chi aveva proposto l'eliminazione del Senato, tu curi, passare al monocameralismo. Quindi non stiamo facendo niente che va contro la Costituzione, che distrugge la Costituzione, ma semplicemente la trasformiamo per attualizzarla. Quindi sono molto serena e tranquilla su questo percorso, che è stato un percorso condiviso con regioni, comuni, con le rappresentanze sociali, quindi un percorso meditato e approfondito. È importante che ci sia un dibattito su questo, mi sembra positivo il fatto che ci sia un dibattito su questo, perché la materia è importante ed è giusto affrontarla con tutti gli input, con tutti i suggerimenti, con tutte le critiche, per arrivare a qualcosa di sostenibile, che vada a migliorare il nostro sistema, non indebolirlo. Quindi comunque è un taglio. No, io repito che tutto questo dibattito sia assolutamente utile, che vuol dire che in Italia c'è una grande attenzione su questo tema ed è giusto che persone anche di grande spessore costituzionalisti mettano a disposizione anche la loro opinione, il loro punto di vista su questo. Quindi di per sé a me sembra tutto questo positivo, dopodiché mi auguro che ci sia una sintesi in grado di raccogliere il meglio. Presenti 425, votanti 418, astenuti 7, maggioranza 210, favori 260, contrari 158, la Camera approva. Con il voto di oggi sono state trasformate le competenze delle province, che vedono ridotte le loro competenze in vista della loro definitiva abolizione con il disegno di legge costituzionale che svolgerà il suo cammino innanzitutto al Senato della Repubblica. Sono state istituite finalmente le città metropolitane dopo oltre 20 anni di dibattito dalla loro prima nominazione in legge e vengono favorite le unioni e le fusioni dei comuni. E quindi ci stiamo rimettendo in carreggiata, mi sembra una riforma molto utile e vedremo anche il processo delle riforme dal lato del Senato, quello è un altro momento assai importante. È un primo tassello ma è solo l'inizio, abbiamo voluto dare un segnale più volte anche nel partito in cui ero, che è il prima, il Popolo della Libertà, con questo attuale, abbiamo ritenuto necessario il superamento delle province essendo un ente costruito così come oggi inutile. È una porcata incostituzionale, chiediamo al Presidente della Repubblica di non promulgarla, di non farsi complice di questa aberrante non riforma, che non riforma assolutamente niente, che è un imbroglio perché quando Renzi parla di abolizione delle province imbroglia gli italiani. Allora, bella su? Questa è l'asore. Questa è l'asore del petizio. Questa è l'asore. Questa è l'asore. Lui, la base petizia. Lui, il, perci, il, perci, il divieno di un asore. Grazie per la visione!